L'ex re di Spagna Juan Carlos torna a casa, ma solo per una visita, dopo quasi due anni di esilio negli Emirati Arabi. A seguito di uno scandalo finanziario, l'84enne ex monarca aveva abdicato a favore del figlio Felipe e si era trasferito all'estero. La visita avviene dopo l'archiviazione dei procedimenti giudiziari a suo carico in Spagna e Svizzera, avvenuta a marzo, che ha aperto la strada al suo ritorno.